E sappiamo che il porto, l'abbiamo detto tante volte, anche Walter quando non andava di moda a parlare di turismo eccetera, dicevamo che l'alternativa alla monocultura dell'acciaio era rappresentato dal porto. Io continuo a dire che anche oggi con la risorsa turismo, con la risorsa valorizzazione dei beni naturalistici, dei beni archeologici che noi abbiamo, il porto resta davvero la nostra principale fonte di possibile sviluppo per creare grande occupazione sul modello Rotterdam. A Rotterdam ci lavorano per 40 volte, 50 volte le persone che lavorano nel porto di Taranto. E allora, però, se non abbiamo la capacità adesso, bravo, esatto, se non abbiamo la capacità adesso però di riuscire a capire che dal porto passa il settore nevralgico più importante, è come dire, abbiamo segnato un punto di assoluto immobilismo. Per fare questo, ripeto, la delegazione dei consiglieri regionali tarantini ci sta mettendo tutto quanto la sua forza e la sua voglia di cambiare le cose attuali. Certo, e chiudo, probabilmente, non lo dico per criticare assolutamente l'operato, però forse anche una spinta più vigorosa da parte, forse, dell'autorità portuale, forse non guasterebbe rispetto a questo, no? Forse. E allora è arrivato proprio un comunicato dell'autorità portuale, che leggo assieme a voi perché l'ho aperto, con sentenza numero 280 del 2016, il Tar Lecce, sezione prima respinto il ricorso proposto dalla società Manelli Impresa SRL, quinta classificata, in relazione alla gara per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori del centro servizi polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo, nel porto di Taranto. L'autorità portuale, visto l'esito del giudizio del Tar, ha proceduto in data odierna a sottoscrivere il contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese Christian Color di Taranto, Cardinale Antonacci Termoidraulica SRL, al quale aveva giudicato l'opera per un importo a corpo pari a euro 6 milioni e 632 mila. Con la sottoscrizione si dà pertanto avvia alle attività di progettazione. Il progetto del centro servizi, continua il comunicato, è stato scelto tramite un concorso di progettazione a premi espletato nel 2008. Mi sono passati quanti anni? Eh beh, 8 anni, 7 anni, 8 anni. E vinto dal professor Rosario Pavia, l'opera di particolare pregio architettonico sarà realizzata in testata del Molo San Cataldo, sarà visibile dalla città e consentirà di compiere un ulteriore passo verso la riqualificazione del waterfront e il potenziamento dell'interrelazione tra porto e città rafforzando una più forte identità fondata sulla fusione armonica della cultura urbana di quella marittima. Non l'avevo visto. Ma di la verità, l'avevi letto questo? No, veramente, l'ho aperto in questo momento. Con un tempismo eccezionale. Dove il mare rappresenta la principale risorsa in grado di innescare processi di sviluppo locale e di rigenerazione urbana sostenibili nel tempo. Insomma, le cose di cui stiamo parlando. Fallone, io prima parlavo di intermodalità trasportistica, il fatto che questo porto poi se veramente avviato, perché Borracino poi nessuno di noi deve dimenticare che ad oggi chiedo a Musillo che è un esperto, il 90% quasi di tutti i traffici del porto sono riservati a Eni, Ilva e Cementi, se non erro. Allora, se invece con la percentuale dell'altro comincia a diventare più importante, c'è lavoro per tutti. Quindi anche qui unità di intenti, gli operatori marittimi stanno facendo un egregio lavoro di consorzio e di stare assieme. Quindi voglio dire, in città gli esempi positivi ci sono, bisogna rafforzarli, fare attenzione a chi nei decenni ha voluto sempre la città divisa. In questo senso ho fatto davvero un applauso ai consiglieri regionali, che è proprio con una controtendenza storica, è senz'altro la prima volta, stanno aprendo un precedente straordinario, il fatto di riuscire a stare insieme in quel modo e a fare un corpo unico su quelle questioni che poi sono di tutti, non sono di destra, non sono di sinistra. Quando parliamo di ambiente di lavoro, di porto di sviluppo, appartengono a tutti. E quindi con molta saggezza, con molta voglia di fare, hanno messo da parte anche le appartenenze, che sono legittime, sono preziose le appartenenze, fanno parte di ognuno di noi. Ma per queste questioni sono riusciti, sono stati molto bravi, io davvero mi complimento con loro. E questo va di pari passo, con tante esperienze, dicevamo prima, che in città pian piano, pian piano, si stanno costruendo. E quella è la strada giusta. Quello è l'indirizzo che ognuno di noi dovrebbe seguire. La questione portuale. Io ho visto anche lì, in questi anni, tanto impegno, impegno economico sulle infrastrutture. Noi siamo un porto che è davvero pieno di infrastrutture. Abbiamo i collegamenti, abbiamo le banchine, abbiamo gli spazi, abbiamo le professionalità, tante professionalità, piattaforma logistica, il mondo presettoriale. Anzi, io direi, anche lì, bisogna aprire un ragionamento un po' diverso. Il porto di Taranto, ma forse lo sottolineava anche Emiliano un paio di settimane fa, il porto di Taranto, che è l'unico vero porto pugliese, l'unico vero porto pugliese, non può considerarsi il porto di Taranto e quindi cercare di attrezzarlo e farlo funzionare per un'esigenza solo tarantina o della sua provincia. Il destino di una infrastruttura così grande è quello di poter diventare l'infrastruttura al servizio dell'intera regione, di tutta questa parte del Mezzogiorno, compresa la Basilicata, ne parlavamo anche altre volte. Questo può essere il destino di questa grande infrastruttura che non è stata costruita al caso. Dopodiché le vocazioni, non ci sono vocazioni. Io non parlerò neanche di alternative, perché costruire alternative è difficile e complicato, ci vuole tempo. Intanto, in corso d'opera, puoi costruire altre cose. Nel nostro porto si può fare qualsiasi cosa. Ritornare all'idea, alla vecchia idea del polisettoriale, quindi una grande area dove puoi fare di tutto. Puoi occuparti di rinfuse, di oli, di silos, di cantieristica, di tutto. Questa può essere la scelta giusta. Dobbiamo parlarne, dobbiamo interrogarci. Noi come PD, nei prossimi giorni, apriremo un grande confronto su questo, perché anche lì sta per uscire un bando, un bando importante. Anche quel bando, quanto quello dell'Ilva, sarà importante per il futuro di questo territorio. Quindi la città, le istituzioni, la classe dirigente si deve interrogare, deve cominciare anche a dare delle idee o a capire bene di chi si sta muovendo per questa grande infrastruttura. E anche lì, come dicevo sulla questione del bando Ilva, vedete io a volte cerco di dare pregi, ma anche meriti e grandi responsabilità a tutti quanti. Anche lì, gli operatori. È importante che anche gli operatori diano il loro contributo, la loro linfa produttiva per cercare di risolvere i problemi in queste città e in quella grande infrastruttura. E mi aspetto che anche lì, in questo bando, ci sia un vero e proprio protagonismo dei locali, di quelli di Taranto, che lo shipping lo conoscono, lo possono anche insegnare in altri parti del mondo. Lì dove dicono, perché la propaganda, non solo della città dei veleni, che lo è stata e che era giusto portarla alla ribalta, quel grande problema, perché se no non sarebbe diventato mai... Meno male che c'è stata l'inchiesta della magistra. Perfetto, perfetto, meno male. Però ciò che va in giro in questa città, anche sulla questione portuale, che il porto di Taranto è chiuso perché TCT non c'è più, il porto di Taranto non è chiuso, il porto di Taranto è aperto, è pieno di infrastrutture, è pieno di professionalità. E io posso dire... Ed è a disposizione del mezzogiorno. I nostri telespettatori, che sta per partire un'iniziativa, vi faremo vedere il porto, anche nei suoi ambiti non conosciuti, c'è bisogno proprio di essere consapevoli, come le cose che di tutti siamo consapevoli, l'ILVA, la Marina Militare, ma c'è il porto che viene prima di tutto, perché l'ILVA potrà chiudere fra 100 anni, o fra 10 o fra 3, la Marina Militare potrà spostare la propria base, ma il porto resta. E' qui che dobbiamo capire la strategicità. Queste cose, l'essere la città dei due mari, non ce lo potrà togliere nessuno. Io ne ho contati tre. Spendevi i soldi, perché ci sono anche soldi non spesi. L'aeroporto è connesso al porto, con una strada, penso che nessuno abbia una strada, forse solo Brindisi, finisce la pista e inizia il porto. Quindi noi abbiamo questa occasione incredibile. Io che facevo le trasmissioni dal deserto aeroporto Arlotta, mi ricordo non stava nessuno, c'era solo la Marina Militare con gli elicotteri, e si sfidava con questa pistarella di 1200 metri. Oggi ne abbiamo una da 3200 metri. Una pista molto importante, che però va riempita di contenuti, perché nel piano regionale dei trasporti quella pista venne dedicata, per esempio, al cargo. E quindi un'altra occasione di sviluppo che non è stata fatta. Cioè non sono in antitesi il cargo, ma anche le attività che ci sono con i voli civili, che piacciono a molti. Io personalmente ho un'idea, Conti. Non bisogna fissarsi sul Taranto Roma e il Taranto Milano, che se no facciamo ridere i polli, perché basta andare in Lombardia, uno si prende l'aereo a Bergamo, se lo prende a Milano Malpensa, se lo prende a Milano Linate. Noi abbiamo tre aeroporti. E allora cominciamo a pretendere, per esempio, dei voli intercontinentali, ho delle linee, non so se vedete, le linee sono tutte in verticale, no? Ci possono essere anche delle linee in orizzontale, per esempio, una Saragozza, Taranto, sto dicendo delle cavolate, Istanbul, no? Per fare delle cose alternative. Delle triangolazioni. Delle triangolazioni, perché a Bari non c'è. Non è che possiamo fare Taranto Roma, magari alle 7, o alle 7 e 30, perché uno non si vuole fare 15 chilometri di più, perché poi da Taranto a Grottaglie sono 20 chilometri, no? 18 chilometri. 18, vabbè, se uno misura, diciamo 20 chilometri i conti. Lei abita sotto... Misurato. Col metro. L'ho vista un giorno col metro. Misurato con il metro. Va bene. Invece, è bene, vai a Brindisi, sono altre 40, cioè... 45. 45. Benissimo. Non è questo. Il problema sono i numeri. Allora, spending review, la faccio la provocazione. Noi dobbiamo fare le cose che non costano molto alla comunità, che magari hanno uno start-up. Ma non è che possiamo pensare di pagare tutti, con i soldi dei contribuenti, per i 15 che prendono l'aereo la mattina. Attenzione, eh? Perché i numeri quelli sono. Comuniti. Mi consente, direttore. Questo si vede che lei è un berlusconiano, perché mi consenta. Un po' con l'accento meneghino. Io sono uno di Almirante, Bertano. Almirante. Addirittura. Poveretto, si sta rivoltando nella tomba, come è combinato il centrodestra. Ha perfettamente ragione. Allora. Tutto parte da come si propone il prodotto. Se Taranto Grottaglia, l'aeroporto Taranto Grottaglia, non fa parte dei circuiti, né nazionali, né internazionali, è ovvio che non è conosciuto come aeroporto civile, è conosciuto come aeroporto logistico. Guardi, glielo faccio vedere, con Carmen Valletta è andata a studio. Lo conosco benissimo, metro per metro, si può dire. Lo sa che fra poco ci arrivano gli F-35 lì? Sì, nel 2018 iniziano a fare esercitazioni. No, no, esercitazioni. Addestramento. Li stabiliscono proprio lì. Sì, sì, 16, 5, 5, 5, 6. Cioè la maggiore tecnologia militare, la più avanzata del mondo. Sì, il massimo dell'espressione. Allora, mi faccio tornare sull'argomento. È come dire, Bari, cancelliamolo come porto croceristico. Non esiste da nessuna parte quale navi chiede di andare a Bari. Nessuno. Perché non fa parte dei circuiti. Quindi, se lei va a vedere sull'almanacco, si troverà come aeroporto cargo. Lei sa bene che di cargo, in questi dieci anni, non è mai stato fatto. Ma neanche caricare una balla di paglia. Pertanto è inutile che ci prendano in giro dicendo il cargo. Che nessuno è contrario. Bene, proposta. Facciamo una proposta. Qui al segretario del PD, consigliere regionale. Un aeroporto è aeroporto se ha la sua funzione. Passeggeri, cargo, merci e charter. Ora... Conti, mi faccia fare l'avvocato del diavolo. Il sottoscritto ha fatto in diretta dieci inaugurazioni di primi voli. Parlo... Mi ricordo tutte... Poi ogni tanto arrestavano quelli. Dagli anni 90... No, 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 parlo di voli civili. Mi ricordo c'erano... Lei quando parla di voli civili, mi scusi... No, però mi deve far... I voli civili sono voli passeggeri... Passeggeri, allora... Possono essere di linea o passeggeri... No, no, di linea, di linea. Di charter. Mi ricordo l'Allynord, che tra l'altro fece da direttore, da co-direttore per qualche tempo di una rivista di bordo che si chiamava Jet. Quindi sta parlando con uno che è esperto di queste cose. Era l'89, l'aereo era un Fokker... Faceva Taranto, Perugia, Orio al Serio. Poi ci sono state... Mi ricordo una volta c'era Massimo Stiglio, sottosegretario alla difesa, col suo trench bianco, che scese dalla scala di questo primo volo. Non mi ricordo manco la compagnia. Poi ci fu il gruppo Andidero di Bari. I tempi sono cambiati, direttore. Ma mi faccia concludere quello che le voglio dire. Sono cambiati. Ci vogliono i numeri. Direttore, la comunità vuole il servizio. Quale comunità? La comunità ionica delle tre regioni, Reggio Calabria, parlo della provincia di Cosenza, parlo della provincia di Matera esposta allo Ionio, parlo della provincia di Taranto e se vuole anche San Michele e Salentino gli conviene andare a Grottaglie. Gli conviene andare a Grottaglie. Stiamo parlando di San Michele e Salentino. Ora, che cosa ci vuole? Nulla. Lei è un comunista dell'aeroporto di Grottaglie. Bisogna che la politica concentri la sua attenzione rivolta anche all'aeroporto di Taranto e Grottaglie per fare la sua funzione. Emiliano ha detto... Ed Emiliano io l'apprezzo moltissimo. Io ho avuto modo di parlare con lui. In tre occasioni pubbliche e uno privato. E io rispetto molto... Emiliano ha detto che è giusto che Taranto abbia i suoi collegamenti di voli civili. Il problema, vi ripeto, anche qui è di convincere una compagnia aerea... Ora, è come lei che fa il giornalista, il direttore. Io la metto a fare il muratore. È capace di fare il muratore. E chi dobbiamo... Cioè deve fare una società ADP. È lei che deve provvedere perché ha i contatti mondiali, ha i contatti europei, ha i contatti nazionali. Non il sottoscritto che dico trovate una compagnia. Io, io sono Alfredo Condi, un pseudo politico. Anzi, uno delle associazioni. Non mi si può parlare a me e dire trovami una compagnia. Quindi il problema è dell'aeroporto di Puglia. Il problema dell'aeroporto di Puglia è perché ha ammirato la sua politica e lo si dimostra in tanti milioni per Bari e per Brindisi come evoluzione di aeroporto. E il nostro, come lo stesso presidente Emiliano ha detto, sembra un aeroporto russo. Boraccino. Allora, qui bisogna impegnare ADP. Aeroporti di Puglia è una società che è posseduta al 98% dalla regione Puglia. 96% Della regione Puglia. Sì. Allora, la regione Puglia attraverso il piano regionale dei trasporti decide che farne dei propri aeroporti. Nel piano regionale dei trasporti Taranto, da molti anni, è previsto come, e c'è la pianificazione regionale sui trasporti, come aeroporto cargo. Punto. Allora, rispetto a tutto questo, io sono d'accordo, non ho pregiudiziari, però il mio amico Michele Emiliano, presidente, che mercoledì siamo stati insieme, martedì siamo stati insieme, che io voglio bene e quant'altro. Quando dice queste cose però, deve sapere, deve sapere, il presidente Emiliano, che io non è che gliele manda a dire, come quando c'era il presidente Vendola, la stessa cosa faccio con il presidente Emiliano. Il presidente Emiliano però, quando dice queste cose che riscaldano il cuore di Conti, ma anche il cuore mio, il cuore di tutti, però poi il presidente Emiliano deve, illumina, bravo, deve poi però prendere... Uno ha detto illughe, l'altro illughe. Illughe, ho detto illughe, illughe. Deve, non so se illughe, deve però poi prendere il management dell'aeroporto di Puglia e di, allora, innanzitutto venire in consiglio regionale, proporre il cambio, una variante al piano regionale dei trasporti e poi dire ad Acierno, che il manager, l'amministratore unico dell'aeroporto di Puglia, dire, vedi, siccome è cambiato, muoviti per fare un bando per l'aeroporto di Taranto Grottale. Finché questo non ci sarà, restiamo nelle cose. Io, nella mia impopolarità, non ho paura di essere impopolare, siccome sto alle cose che ci stanno allo stato attuale, ad oggi, chi parla, al di là delle battaglie politiche legittime che Conti, l'associazione per l'aeroporto Magna Grecia, FAE, eccetera, che io rispetto, però ad oggi c'è un fatto importante, è il fatto importante che nella previsione del piano regionale dei trasporti Taranto non è aeroporto per passeggeri. Allora, poi possiamo fare tutto, si può cambiare tutto, Walter, però ad oggi la situazione è questa. Grazie. Andiamo a Musillo e poi Fallone e poi ci dobbiamo salutare. Conti, prego. Noi stiamo proponendo come, è una cosa diversa, aeroporto intercontinentale di servizio in sistema con Bari e Brindisi. È un'idea. Non c'è un aeroporto nel sud che abbia le caratteristiche come pista e sono all'avanguardia tecnicamente e operativamente perché per far decollare e atterrare il 747 modificato ed è venuto anche il 787. Dream Leicester si chiama. L'ho visto volare ieri. Non possono permettersi le altre piste. Un legamento intercontinentale con Siatto. Ecco perché vi chiedo la cortesia di mirare voi che siete direzione provinciale, consigliere regionale, che ha un certo valore veramente per la comunità. L'appello è raccolto, Musillo? Io mi capita spesso, per ragioni soprattutto di lavoro, di prendere dei voli, mi sento fortunato rispetto ad altri che magari abitano anche nel nord Italia. Cioè io puntualmente posso decidere su due aeroporti e capire se mi conviene di più il prezzo su Bari e su Brindisi o gli orari su Bari e su Brindisi e i ritorni. Mi sento, questo credo che sia un vantaggio. Ora, la situazione è un'altra. Io condivido molto quello che dice Conti rispetto alla questione dei voli intercontinentali. Anche lì per offrire al mezzogiorno, la Puglia e la Basilicata innanzitutto, ma anche al mezzogiorno, una grande opportunità. Quello di un aeroporto intercontinentale che arrivano fino a Roma, poi c'è Milano, c'è Venezia. Venezia, al sud invece non ce ne sono. Noi abbiamo una pista molto grande che può consentire l'atterraggio a questi grandi aedi che fanno voli intercontinentali e può diventare a quel punto l'aeroporto intercontinentale del mezzogiorno d'Italia. Ma lì, ritorno a Conti, ha ragione. Cioè, bisogna cambiare le cose, bisogna cambiare la destinazione d'uso, diciamo. E in questo la pattuglia di consiglieri regionali che stanno a Bari potrebbero insieme presentare un emendamento. Non solo la pattuglia, io l'amplierei ancora di più. Anche gli aeroporti di Brindisi e di Bari, avendo a più o meno equidistante distanza un aeroporto intercontinentale, crescono anche loro, crescono, diventa un vantaggio per la regione. Bene, avete visto le mie provocazioni come hanno fatto uscire il problema? Cioè, il problema è quello di un sistema dove ognuno non faccia, come nei porti è capitato, lo dobbiamo dire, perché Bari ha fregato, per esempio, Brindisi sul sistema croceristico, perché era più naturale Brindisi. La Magnifica non tornerà più a Brindisi. Beh, mentre il fare sistema, come dice Musillo, mi sembra la cosa più intelligente. Cioè, ognuno deve fare il suo specifico ruolo. Fallone mi hanno detto che ha paura di volare, è vero? Volo poco, perché è di verità... Dice che chiude gli occhi quando l'aereo decolla. Volo poco per motivi di lavoro. Però io ho informatori ovunque, a parte le battute del suo pensiero e poi ci salutiamo. Non si può non essere d'accordo con Alfredo, perché significherebbe andare contro l'interesse di un intero territorio, di un intero mezzogiorno. Sono concordi su questo, su qualsiasi progetto che possa fare. Lei spingga il suo consigliere legionale. Renato è assolutamente d'accordo e come ha detto Mino, fanno squadra per qualsiasi operazione da fare in favore di Taranto. Renato è sempre disponibile, assolutamente. Bisogna sfruttare questa bellissima opzione di fare voli intercontinentali, perché bisogna far conoscere Taranto al di fuori di quelle che sono le rotte comuni. Chiaramente, come dice Alfredo, dateci le strutture e noi dimostreremo di valerle. Grazie. Allora concludiamo con una cosa che ci fa un po' sorridere. Io ricordo negli anni, inizi anni 90, c'era una polemica a livello nazionale su dove sistemare i famosi F-16 a difesa del fronte sud. C'era stata la crisi con la Libia, una delle tante, e naturalmente tutti si proponevano. Io ricordo c'era un sottosegretario simpaticissimo, l'onorevole Bruno, di San Marzano, di San Giuseppe, che disse li metto a San Marzano. Qualcuno gli fece notare che non c'era l'aeroporto. A parte gli scherzi, ogni tanto una battuta su quello che è stato il nostro divenire in questo territorio. Io vi ringrazio per davvero, ringrazio Alfredo Conti, hai visto, Conti, che è arrivata la trasmissione. Quante volte ce lo siamo detti, lo abbiamo fatto perché pensiamo che tra il serio e faceto mettere in evidenza queste cose possa servire a tutti. Alfredo Conti che salutiamo, responsabile del Dipartimento Trasporti per Forza Italia, grazie a Giacinto Fallone, Vice Coordinatore Provinciale per i Conservatori e i Riformisti, a Cosimo Borraccino, consigliere regionale e dirigente provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà, al segretario provinciale del PD, Walter Musillo. Io voglio ringraziare tutti gli spettatori che hanno preferito il studio Cento a Sanremo. Esatto, anche perché... Saranno tanti, sono degli eroi. Anche perché io personalmente non riesco a stare tanto su Sanremo, nonostante tu... Cioè mi sono piaciute di Sanremo due cose molto belle. I Poo, perché ritornavano insomma ai nostri anni. E poi mi è piaciuto anche quel pianista, quell'artista sofferente di Sla, che ha dato una lezione di civiltà e di vita veramente a tutti. Quindi anche le cose belle, la televisione non è solo pattume, come si parla, no? C'è una televisione che ha rovinato gli italiani, ma il modo di fare televisione, non solo quella privata, anche quella pubblica. Vi ricordate, ero i tre un tempo, che faceva le cose culturali, un po' stile BBC, no? BBC. BBC, oggi non esiste più, perché anche quella purtroppo va dietro all'audience, ai livelli d'ascolto. E la qualità non la pensa più nessuno. Abbiamo parlato poco di politica, quella... Ma ci sarà tempo per farvi... Eh, qua stanno tutti agguerriti a pensare chi sarà il candidato, perché si vota in comuni importanti. Molto importante. Allora, grottani, ricordiamoli che questo è importante. Grottaglie, San Giorgio... Torricella, prima di tutto. Per favore, andiamo con... Cioè, Massafra, Massafra, Grottaglie, poi... La terza. La terza, San Giorgio. Rosa. Torricella, Ginosa. Monteparano. Monteparano, un bellico del mondo nel nostro territorio. Dove faranno... Tra l'altro uniscono... Faranno le primarie con il nostro giovanissimo di vent'anni. Ma è vero, Musillo, che si unirà Roccaforzata con Monteparano per il fatto del numero degli abitanti? C'è anche questa ipotesi. Io accorpererei anche qualche altro comune in più, insomma, per cercare di... Di spendere di meno. Di spendere di meno. Stare insieme, anche lì. Stare insieme. Fare, insomma, basta un sindaco per Roccaforzata. Ma come se la prenderanno? Arriviamo fino a Pulsano. Potremmo fare anche Pulsano-Leporano, che hanno tutte cose in comune, e ci separano solo un chilometro. Bene, potremmo fare Taranto-Bari-Brindisi. Non basta con Bari. Io lo sapevo, no? Bari, bari. Va bene. Grazie. Grazie per la simpatia e grazie anche per l'approfondimento. Io ringrazio i nostri telespettatori. L'ultima edizione di Cento Notizie.